Ciao ragazzi, qua è Tomni e benvenuti in questo nuovo video E niente raga, questo è un video, è il secondo video raga, veramente scusate se sono caricato più video in questo tempo E che raga, il computer mi sta proprio hackerato del tutto Ho scaricato la VG Scanner come cazzo si chiama lì e ho tolto il virus, ho dovuto cancellare tutto un casino Però Minecraft mi è rimasto, si E quindi questo raga è il primo episodio della mia nuova serie principale di Minecraft che si chiamerà Che si chiamerà ovviamente la TomniCraft, mentre c'è un casino, scusate La TomniCraft che praticamente sarà senza mod, ovviamente senza testo Perché a me Minecraft mi piace così, naturale, semplice e con tutte le caratteristiche di un Minecraft normale Ok quindi raga, alcuni di voi si chiederanno perché ho cambiato il nome raga, perché ho cambiato il nome Perché mi ero completamente dimenticato, vado ancora al cazzo, e al Cristo e alla Madonna Mi ero praticamente dimenticato, che cazzo urlo Che la Vermedia, che sarebbe la mia scheda di acquisizione, per me, ora, la Niro è in commercio Vabbè, noi parliamo di scheda di acquisizione E niente raga, la scheda di acquisizione video è la Vermedia che però mi arriverà a cazzo a Natale Quindi raga, fino a Natale non potrò registrare video sulla mia PS4 e quindi raga, neanche di FIFA Quindi che cazzo mi sono chiamato a fare FIFA Friend Ok ragazzi, allora Sostenete questa nuova serie con tantissimi pollici in su E lasciate dei commenti se qualcosa ci sfugge di mano E tutto questo ragazzi, io direi che potete anche iscrivervi al canale Poi saluta la pagina Facebook, ma saluta il link in descrizione E noi ci rivediamo al video Wow Eccoci raga su Minecraft E come potete vedere Qua c'è un ragno E come potete vedere raga Ho fatto un po' di cose off camera E sono spawnato in un bel villaggio Qua c'è il villager zombie Che mi rompe il cazzo Ho un pezzo di merda C'è il villager zombie Che mi rompe il cazzo Come potete vedere Oh ma che cazzo Porca c'è Miseria Ma che è questa eternità di mob Non fa un culo va Comunque dicevo E sono spawnato in un villaggio Allora, come villaggio è bellissimo Solo che se questo creeper esplode Esplode, esplode, esplode Esplode, esplode Oh, grandissimo, grandissimo Oh Grande Ok, vedete Ok ragazzi Sono spawnato in un villaggio Usate per questi inizi un po' così ma Sono spawnato in un villaggio E come potete vedere È abbastanza bello come villaggio Però non ho trovato la casa del fabbro E quello può essere uno svantaggio Abbastanza Svantaggioso E niente appunto Ora ho l'inventario pieno Ho fatto un po' di cose off camera anche nel senso di raccogliere gli oggetti E ho la skin del buon Pagamin Mamma mia che rima E ho la skin di Pagamin perché praticamente Mi piace tantissimo Perché io ho anche far caso Ok ragazzi Prima di iniziare Piccoli premesse Prima di iniziare il video Io devo dire che Ho fatto un po' di prove con la facecam Raga ma occupa un bordello Poi registro con fraps Quindi veramente Occupa un bordello di spazio Quindi raga Io farò senza fisca E poi quando Arriverò dai mille iscritti in su Speriamo eh Prima Pensiamo ora Farò I video con la facecam Ho preso un emerald Ho preso uno smeraldo Perché Raga L'ho L'ho barattato Con dei Delle patate Tanto ce le avevo in quantità Patate in tutti i sensi In tutti Non vabbè scherzo raga Oh Vabbè Dicevo Scusate se trovate di bottone Ma ho sbagliato a pigiare Allora Ho I picconi in ferro Ho anche la cobblestone Ho un bot di carbone E sono a livello 10 Come potete vedere Ecco Ho un fottile di carbone Poi ho Della legna E di Sia di Hock Sia di Birchwood Sia di Birchplants Vabbè Comunque Della La cosa Come cazzo si chiama La La britulla E raga Ho 11 Ho fatto anche un secchio Un bucket E ho anche 11 di iron ingot Allora io non so come si fa Un'arma Una cazzo di armatura Nel prossimo episodio raga Mi vedrete con un po' di armatura Un po' Ok detto questo raga Vi dico solo Perché mi chiamo Tomny T0 Mi Sicuramente qualcuno Come vedete prima Si sarà chiesto perché Un po' L'ho preso anche perché Si chiama Stepney Perché raga Stepney è il mio idolo 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 E poi anche perché T Tom T0 M Che sarebbe Tom Che vuole lì Tom Perché mi chiamo Tommaso Ponziani Perché lo vuole sapere T0 M Che sarebbe Tom Tommaso E N Che sarebbe Ponziani Quindi ok Ok detto questo raga Io direi di andare in miniera E la faccio vedere Allora ho costruito Una miniera davanti a casa Per ricordarmi sia Di dove è la casa Sia di dove è la miniera Quindi raga Ho fatto veramente Una doppia scelta Proprio magnifica Ho fatto una scalata Un po' così Alla cazzo Un po' Vabbè l'ho fatta L'ho fatta Scusate per il mal di gola Veramente mi manca la voce In realtà C'ho sempre questa voce Un po' rauva Così rauva Qua bisogna stare attenti Perché Ora E infatti Infatti Porca puttana Ok C'è gente raga E Scaviamo un po' di cob 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 Le stone Ovviamente non metto Lingo Oh Oh cazzo Miseria No 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 Il minion Il minion Il minion è un pezzo di merda Madonna Mi sono cagato in mano Il minion no È un pezzo di schifo Ok raga Allora abbiamo del ferro qui E ferro Ferro E rosso No L'ho lasciato qui L'ho lasciato qui Il ferro raga Mi devo un attimo Andare a depositare Un po' di cose Nell'inventario Ok Io risalgo un attimo Perché mi devo No Eh no Eppè Ancora 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 C'ho la spada In Te lo dico C'ho la spada In In ferro Te lo dico Te lo dico Merdone Quanto li odio Sti cazzi Pezzo di merda Quanta gente c'è Quanta gente c'è Quanta gente Gente Lo stadio è pieno Pieno Non vedi Quanta gente Sono una merda A cantare No c'è un Fuccio di gente Io non ci entro più Finché Veramente Poi ho messo Difficoltà Esi Per sbaglio Volevo mettere Norma Però Raga Come potete vedere È abbastanza Difficile Anche così Non ho una cazzo Di cesto Non me lo dire Non me lo dire Perché La crafto Immediatamente Oddio Come si crafta Una cesto Ah madonna Certo Lo so raga Come si crafta Una cesto Non sono Me le crafto Due Perché raga Non si sa mai Me le crafto Due cesto Perché è molto meglio E raga Aspetta Stiamo andando Un attimo qui Ok E che faccio ora Non lo svegli Devo depositare Un attimo La roba Devo depositare Per esempio La gravel E butto un attimo La gravel E prendo I cesto Non le posso Ho ripreso La gravel Non ci credo Via gravel Non ho la gravel Cesto Ok raga Piazzo E cesto I cesto Qui Uno E due E poi Ora posso riprendere La gravel E' un po' Buia La cesta Era solo Un po' Lo shared Shared Oh Ditemi raga Se volete anche Altri texture pack Però dopo Non mi si vede Che ho la skin Del buon In Madonna Che arriva Oh Large chest Finalmente Ci mettiamo La cosa Che non Che li possiamo Fare a meno Per esempio Tutta questa roba Torce Che no Così posso Lo sentire Questi qui Il call I seed Le cose Che non Che possiamo Fare a meno Le risorse Questo I fiori La roba Da mani Anori Perché Raga Perché Raga Ok Cobb I pulsanti Raga Che le Brucerei Proprio Volentieri Qua mettiamo Anche La gravel La cosa I seed Questa qua Che tante Quello Non la mangerò Mai E la terra Ok Raga Allora Detto questo Io direi Or caccia Miseria Ma è notte Guarda che schifo Aspetta Raga Bisogna Picchiare Duro Picchiare Duro Picchiare Duro Ok Or caccia Miseria Ma fa Fanculo Ma Ma ha droppato Del ferro Ma 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 ha droppato Del ferro Raga Non mi è mai Successo Che mi Droppano Del ferro Ok Ragazzi Allora Visto che I video Pesano Un po' Troppo Io direi Che per questo Video Può finire Qui Se il video Vi è piaciuto Lascia un commento Vi piace Passare la pace A facebook Ma al solito Il link In descrizione Iscriviti Al canale E noi Ci vediamo Nel prossimo video Per ragazzi Poop E noi